Ci sono stati altri quattro morti in provincia di Agrigento. Lo rivela il report dell'ASP riferito alla giornata di ieri. I decessi hanno interessato le comunità di Agrigento, Palma di Montechiaro e Ravanusa. In quest'ultimo centro i deceduti sono stati due. Per il resto il report rivela che su poco più di 3.000 tamponi processati ne sono risultati positivi 198. Il tasso di contagiosità è dunque del 6,5%. L'ASP riferisce inoltre la notizia di altri due ricoveri, ma anche quella di 92 guarigioni. Per quanto riguarda la situazione nei singoli comuni, continuano ad aumentare i contagi a Licata, dove oggi si contano 1.218 positivi. Sono 1.366, anche qui in incremento, e contagiati ad Agrigento. A Sciacca sono stati registrati 16 nuovi casi e il numero complessivo di soggetti tuttora positivi è così salito 576. Dieci guariti sono stati comunicati a Burgio, adesso le persone contagiate sono scese a 20. Situazioni che si confermano delicate a Ribera, altri due positive adesso sono in tutto 168, Menfi 238 positivi, Santa Margherita 93, Cianciana 71, Caltabellotta 48, Cattolica 38, Bivona 33, Sambuca 27, Villafranca 25. E ancora numeri ancora alti a Canicattì 954 positivi, Palma di Montechiaro 703, Favara 674, Porta Empedocle 344, San Giovanni Gemini 301, Ravanusa 295. E intanto, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati altri 5.705 contagiati dal Covid-19 a fronte di 33.470 tamponi processati. Il tasso di contagiosità è salito al 17,3%, ieri era stato del 13,8%, ci sono stati altri 29 morti, numero che scaturisce dal calcolo aggregato dei decessi degli ultimi quattro giorni. Anche il numero dei positivi comprende 131 casi che sono stati accertati nei giorni scorsi. Ci sono stati 4.626 guariti, mentre il totale delle persone tuttora positive in Sicilia è più alto di 24 ore fa di 1.271 persone. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono tornate ad aumentare i posti letto occupati in degenza ordinaria, che oggi sono 1.162, ieri erano 7 di più. Mentre scende il numero di persone ricoverate in rianimazione, oggi sono 85, 9 meno di 24 ore fa e con due nuovi ricoveri dei nuovi casi odierni. 599 riguardano la sola provincia di Agrigento.